cari amici abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione un musicista particolare diciamo che emerge dalla mediocrità della scena musicale italiana alessandro magri benvenuto allo studio dis academy buongiorno è un piacere far parte di questa iniziativa di presentazione degli artisti ti ringrazio fulvio alessandro tu sei uno studioso suoni uno strumento particolare dopo vedremo qualche qualche immagine su questo strumento sono il corno francese si allora contaci un po intanto il tuo percorso accademico cioè come sei arrivato a studiare corno francese cioè come come ti è venuta questa in idea di di cominciare con uno strumento che è particolare poco conosciuto diciamo che la storia inizia con la passione di mio papà che ha studiato e suona ancora oggi il basso tuba e allora pensando di assegnare dei strumenti per i figli io e mio fratello che ha iniziato con la tromba ha diciamo deciso pensato e poi consigliato di studiare il corno francese come strumento nuovo nelle realtà calabrese da cui tu provieni non abbiamo detto all'inizio e quindi ho iniziato con mio papà e poi diciamo che ho iniziato al conservatorio quale conservatorio ecco infatti dove è studiato conservatorio di reggio calabria come si chiama il conservatorio reggio calabria che non mi ricordo intestato a cilea compositore famoso compositore cilea benissimo calabrese quindi questo corno francese corno francese è uno strumento tu oltre a questa attività accademica di musicista sei anche un insegnante se non sbaglio sì io sono un docente di corno nell'istituto comprensivo forum nuovo meditore in sabina in provincia di rieti benissimo dunque questo strumento la vediamo un attimo questo strumento non insegni privatamente segni solamente presso questo questo istituto parallelamente a questa attività di docenza che comunque è particolare e fortunatamente c'è qualcuno che ancora studia questi strumenti e li suona perché di solito noi siamo abituati noi produttori musicali a suonare questi strumenti in maniera digitale per motivi di budget ed è tutta un'altra cosa questa si può dire dunque tu parallelamente a questa attività hai anche una collaborazione con diverse orchestre giusto in particolare vogliamo dire per esempio mi stavi raccontando alcune orchestre con cui fai qualche collaborazione e sì io quando giustamente posso pure perché sono impegnato con le attività a scuola didattiche si si didattica e collaboro con l'istituto musicale briccialde di terni e il conservatorio di bolzano il monte verde di bolzano ottimo quindi una bella attività poi a me mi interessa tantissimo invece quella tua attività artistica di composizione con quei due cd che tu hai fatto se se dalla regia ci ci passate un attimo i due cd del del nostro amico alessandro macri possiamo andare a vedere tu hai composto questo tipo di di musiche prendendo ispirazioni sia da raccontaci un attimo perché uno è un musica classica film ecco alessandra ciotta grazie ancora racconto che questi sono i due i due cd di cui stiamo parlando uno si chiama sono disponibili sugli store musicali mi stavi dicendo uno si chiama movie brass quintet che è diciamo il gruppo con cui tu i suoni quintetto di ottoni si chiama action l'altro invece movie brass quintet sempre symphonic sounds raccontaci un poco che c'è questi sono dei cd ho avuto modo di ascoltarli particolari no c'è questo tipo di cosa raccontaci un attimo per esempio di action allora nel nel secondo cd action ho realizzato il mio sogno di suonare musica da film partendo all'ispirazione dei grandi compositori come john williams alan silvestri e han zimmer han zimmer di cui siamo fan e utilizzatori di cubase anche lui e quindi certamente sì e quindi e da dei consigli che mi aveva dato tempo fa l'editore i due editori che hanno creduto in me ho realizzato questi album ora parliamo del secondo con una parte di musiche già scritte dai grandi compositori che detto prima e l'altra parte composizione originale per quintetto di ottoni composte da me di queste diciamo che raccontano storie immaginarie un brano ad esempio dedicato a una divinità egizia orus quindi con utilizzando le musiche e dal film l'ispirazione presa dal film la mummia diciamo un po film epici no di supereroi è fantastico proprio che ho voluto portare avanti proprio la musica epica e alcune composizioni invece raccontano una storia immaginaria come escape from the city fuga dalla città ho immaginato proprio una città con che con dei con i problemi che bisognava scappare da questa città e quindi racconta proprio la musica che inizia con un un tema caratterizzato proprio dal dal discorso dicevo prima e poi finisce con una tranquillità la quiete dopo la tempesta ecco hai fatto venire a tutti la curiosità come si chiama questa quindi noi sui movie brass quintet dovremmo cercare e il brano si chiama escape from the city e si vede qua in sovrimpressione il brano così voi potete andarla a cercare sui stori musicali dunque parallelamente a questa attività di produzione di cd tu hai anche una etichetta discografica questa è un'altra attività molto particolare no? si come si chiama questa etichetta? ma creed production perfetto ho utilizzato il mio cognome come brand certo noi vediamo qui adesso qualche immagine di questa tratta da un diciamo un brano che hai prodotto tu con questa etichetta discografica in particolare noi abbiamo questa ragazza che sta cantando qua che si chiama Alessia Annesi alza la testa il brano giusto? ah si sa che vogliamo fare adesso? lo lanciamo e lo facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori dalla regia mandateci Alessia Annesi alza la testa l'occhio vuoto guarda e giudica sa bene cosa fare e non fare perché su ogni volta non convinto vede quello che è ci sono foglie morte sulla via riposano ferme così guarda giù guarda giù capita vita che vicina se ne va bene insomma questo brano di Alessia Annesi alza la testa è un ottimo brano questo è stato da chi è stato composto il brano? prodotto dalla tua casa discografica ma da chi è stato composto? è stato composto da Lorenzo Sebastianelli e Alessia Annesi con il testo ah lei stessa hanno lavorato insieme in una sinergia tale da diciamo da produrre questa canzone particolare senti un'altra cosa mi pare di aver visto di averti visto in una produzione di Canale 5 qualche tempo fa o mi sbaglio insieme a Dolce Nera eh sì sono stato sia in televisione che in radio su Radio 105 RTL TV sì diciamo che ho partecipato e mi ha invitato il suo manager per questa produzione Gigi Campanile Gigi Campanile lo ringrazio e lo salutiamo anche che mi ha dato a me la possibilità e pure a un fratello trombettista che quindi abbiamo suonato insieme per questa cantante Dolce Nera bravissima anzi la salutiamo salutiamo Manuela salutiamo anche Manuela Dolce Nera bene che spesso dà la possibilità nelle sue canzoni di far esibire i fiati insieme alle percussioni che nel caso è l'ultima fiati veri non la robaccia e caso è l'ultima canzone pure percussioni direttamente dal Brasile quindi a questo ritmo sudamericano senti il tuo cd che io ho ascoltato contiene diverse frasi che tu stesso hai suonato con questo corno francese tu oggi vedo con qui che hai portato lo strumento principale con cui tu suoni vogliamo ascoltare sei in condizione di farci ascoltare qualche frase di questo cd suonato dal vivo che dici? va bene perché molte persone non conoscono bene conoscono il suono del corno francese senza sapere com'è fatto o come si suona vogliamo fare questo tipo di esperimento? sì bene allora sempre Alessandra Ciotta la nostra assistente di regia grazie allora perfetto allora adesso noi mentre Alessandro Magri ci penso io qui prepara il suo strumento noi prepariamo il microfono per ascoltare un po' questa cosa certamente ci scusiamo perché la posizione non è esattamente quella da gran concerto di musica sinfonica però nel nostro studio questo breve fraseggio ce lo fai ascoltare va bene quale 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 ci fai ascoltare in modo che si possa sempre cercare sugli store digitali? vorrei ascoltare la nostra versione di Indiana Jones scritta dal grande Joe Williams e come si chiama questo brano? Raiders March ok allora ascoltiamo Alessandro Magri in un fraseggio del suo disco a me piace molto questo suono delicato però potente allo stesso tempo vero? eh sì diciamo che il timbro è scuro e misterioso basta pensare all'utilizzo che ne fa Richard Wagner nella cavalcata delle Valkyrie ecco per esempio esatto bene dunque ti volevo chiedere alcune cose di questo strumento molto bello ha qualche analogia con una tromba per esempio oppure con qualche alfricorno una tromba cosa di questo cioè quale altro strumento più famoso potresti avvicinarlo? allora il corno fa parte della famiglia degli ottoni quindi come dicevi tu della tromba del figorno basso tuba trombone diciamo tra tutti gli strumenti è quello più complesso perché nasce da uno strumento utilizzato per la musica da caccia per gli squilli per i segnali per poi essere utilizzato nelle orchestre come strumento sinfonico quindi sinfonico senti guarda questa tua dopo tutta questa intervista di cui noi ti ringraziamo visto che tu hai avuto esperienza sia nella docenza sia nella diciamo parte accademica di studio nell'esecuzione nella composizione volevo chiederti se le nostre interviste spesso viscono in questa maniera cioè se tu dovessi dare un consiglio ad un ragazzo che vuole eseguire un percorso analogo a questo che hai eseguito te quale consiglio potresti dare oppure diciamola diversamente se tu dovessi consigliare te stesso all'inizio di questo percorso che consigli daresti a te stesso per fare un percorso diverso con miglior risultato insomma con un maggiore coinvolgimento la prima cosa che penso è di far conoscere sia questo strumento che tutti gli altri dell'orchestra classica di portare un proprio figlio ai concerti ai concerti dove questo è importante l'ascolto eh sì l'ascolto dove imparano come diciamo come sono rapportati con l'orchestra con il ruolo che hanno perché fare musica significa fare aggregazione eh significa proprio dare un'educazione a un proprio figlio è quello che poi trasmettiamo o trasmetto nel mio caso a scuola si trasmette la passione e e la socializzazione attraverso la musica anche perché è una metafora questa qui bene allora quindi questa è la prima cosa importante andare ad ascoltare gli altri e cercare di capire come si introduce uno strumento nell'ambito di una situazione più complessa sinfonica giusto bene allora Alessandro Magri grazie per questa intervista ci autorizzi la pubblicazione su facebook chiaramente sì perché già siamo in diretta e grazie nuovamente noi più avanti faremo qualche masterclass sul tuo strumento quindi ti inviteremo senz'altro per qualche cosa un po' più approfondita rispetto a questa semplice intervista grazie grazie Alessandro buona serata arrivederci a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti